Mercoledì 20 novembre, ancora preghiamo, ancora ci prepariamo al giubileo a partire da questa chiesa giubilare, la Basilica di Santa Maria Nuova in Abbiategrasso. Giubileo, motivo di speranza perché è offerto il perdono dei peccati, è offerto quel gesto sacramentale, la soluzione che ci libera dal peccato, è offerta la misericordia di Dio che ci libera dal peccato. Quelli che hanno la persuasione di non aver peccato, di essere a posto, di non aver fatto mai niente di male, forse non possono capire il giubileo, forse possono fare un bel pellegrinaggio a Roma o andare a visitare una chiesa giubilare, come però vanno i turisti a curiosare, a fare fotografie, ma chi veramente si mette davanti al Signore e riconosce il suo peccato, ha bisogno, desidera, è contento di essere perdonato. Sì, può essere perdonato anche tu che hai l'impressione che il tuo peccato sia troppo grave. Sì, puoi essere interessante per Dio anche tu che hai l'impressione di non interessare a nessuno. Dio ti cerca, ti aspetta, come il Padre misericordioso aspetta il figlio che si è allontanato da casa per abbracciarlo e perdonarlo. Ecco, chiediamo umilmente il perdono dei nostri peccati con semplicità e con fiducia. Signore Gesù, Figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. Ripetiamo tante volte quando possiamo questa semplice preghiera. Signore Gesù, Figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. E preghiamo come Gesù ci ha insegnato perché possiamo essere capaci di perdonare a motivo del fatto che siamo stati perdonati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Preghiamo con una preghiera del messale ambrosiano. Concedi, o Dio onnipotente, che la venuta gloriosa del Salvatore lavi i nostri peccati e porti al tuo popolo consolazione e perdono. Per Cristo nostro Signore. Vi benedica tutti, Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. A domani. Grazie.